Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima puntata della Digital School organizzata da Aruba.it Business nella quale cercheremo di portare contenuti formativi per cinque puntate cercando di trattare i temi più interessanti riguardanti il marketing digitale e la strategia aziendale. Partiremo parlando di Analytics 4 come sapete Universal Analytics, lo strumento di analitica più usato tra poco cesserà di funzionare cercheremo di capire quindi quando succederà come comportarci e quali sono le prospettive e nelle prossime puntate 26 ottobre, 30 novembre, 18 gennaio e 15 febbraio parleremo di altri temi molto sensibili al lato digital marketing ma in generale digital strategy quindi da come utilizzare un CRM per creare strategie di inbound marketing a quali sono gli strumenti gratuiti che mette a disposizione Google per le PMI e per le aziende che vogliono crescere l'importanza del PR in formato digitale e non per sempre aumentare i propri contatti, i propri clienti su internet e finiremo a febbraio parlando di first party data quindi l'importanza dei dati di prima parte quanto è importante che le aziende imparino a prendere i propri dati i dati dei propri clienti e mettere a disposizione delle piattaforme per migliorare la propria strategia digitale ma torniamo a noi passiamo questa un'ora, un'ora e un quarto parlando delle modifiche, delle novità introdotte da GA4 e di come fare il passaggio dagli Universal Analytics l'analitica alla quale siamo abituati verso GA4 e poi ci terremo un quarto d'ora finale circa per le domande iniziamo subito allora, di che cosa parleremo? abbiamo diviso questo tempo in sei slot così che sia più facile per voi seguirci e anche andare a ripescare poi le slide nei punti esatti inizieremo parlando del cambiamento che cosa sta per succedere nei dettagli, le tempistiche poi parleremo dei nuovi meccanismi di quali sono le nuove logiche che GA4 introduce quindi non è tanto andare a vedere la piattaforma di GA4 per la quale c'è tempo avete ancora diversi mesi per diventare bravi utenti di GA4 perché finché potete usare Universal Analytics che magari chiamerò per brevità ogni tanto GA3 vi consigliamo chiaramente di usarli in parallelo finché potete ma capire quali sono le nuove logiche di GA4 quindi nella seconda parte vedremo quali sono i nuovi meccanismi poi quali sono le opportunità che ha per GA4 le cose che si possono fare che prima non si potevano fare poi vedremo quali sono i sette step per un corretto passaggio da Universal Analytics ad Analytics 4 e poi chiuderemo con due cose molto particolari di Analytics 4 che sono a completamento, in contraddizione ma anche diciamo così in superamento di quello che veniva fatto con Universal che sono la gestione degli eventi standard e gli eventi che la piattaforma chiama Enhanced allora partiamo dalle cose facili il cambiamento contrariamente a quello che Google ci aveva fatto credere fino a pochi mesi fa Universal Analytics non è per sempre e cesserà di funzionare l'1 luglio 2023 questo vuol dire che noi andando in piattaforma l'1 luglio vedremo che i dati dell'1 luglio sono bianchi tutti i dati saranno a zero ci dice di più in realtà ci dice che poi per un periodo i dati saranno ancora fruibili in piattaforma quindi ipotizziamo il 5 luglio possiamo ancora accedere al nostro account come abbiamo sempre fatto e vedere tutti i dati storici ovviamente fino al 31 luglio al 31 luglio ma non oltre ma attenzione perché questa cosa durerà per un po' non ci ha detto quanto non ci ha detto quanto durerà ma a un certo punto anche i dati storici verranno cancellati quindi se per noi sono molto importanti i dati storici e per chi non lo sono le uniche chance che avremo saranno scaricare i report oppure appoggiarci ad altri strumenti che possono mettersi in pancia i dati storici di Universal Analytics come ad esempio BigQuery e proseguire solo su quelli e tenerli lì e fare query su BigQuery per gestirli però è già una visione molto enterprise abbastanza distante dalle esigenze della piccola azienda italiana e quindi che fare? beh sicuramente possiamo dire che oggi siamo già in ritardo per parlare di Google Analytics 4 perché? beh pensiamoci è molto facile perché noi non potremo fare un confronto anno su anno sull'anno scorso a partire dal primo luglio quindi noi dovendo analizzare il mese di luglio se non avevamo già a luglio 2022 GA4 non potremo fare un paragone tra luglio 2023 e luglio 2024 questo non vuol dire chiaramente che sia tutto perduto cerchiamo di fare il passaggio a GA4 il prima possibile i codici di tracciamento sia su Tag Manager che tramite JavaScript rendono molto semplice avere entrambi i codici quindi adoperiamoci per fare il passaggio il prima possibile è uno strumento decisamente nuovo GA4 direi che è uscito dalla beta quasi più per necessità e ce ne accorgiamo guardando il changelog guardate sulla barra di sinistra con che frequenza ci sono degli aggiornamenti sostanziali allo strumento GA4 quindi 14 settembre 1 settembre 16 agosto 5 agosto 29 luglio è molto è molto ritmato vi porto due esempi che sono sostanziali di cambiamenti che sono stati fatti il primo all'inizio dell'estate è che cercheranno di instradare il traffico tramite dei server in Europa questo è un tentativo di rendere GA4 un pochino più compliant lato GDPR probabilmente non basta renderlo totalmente compliant sulla GDPR però diciamo che ci dà anche un indizio sul motivo per il quale hanno dovuto accelerare così tanto con GA4 ed è appunto la GDPR dopo li vedremo nel dettaglio sostanzialmente il traffico che parte il pixel che parte dal browser del vostro utente non va direttamente negli Stati Uniti ma viene veicolato attraverso una rete di server regionale in questo caso in Europa questa cosa dovrebbe mitigare leggermente le informazioni che arrivano negli Stati Uniti ma l'altra cosa che ci fa capire anche il grado di maturità dello strumento è che soltanto a inizio estate hanno cominciato ad introdurre delle metriche alle quali noi eravamo straabituati quindi hanno introdotto veramente poco tempo fa con il prodotto già lanciato metriche fondamentali come il conversion rate o la frequenza di rimbalzo pensate quanto è ancora acervo questo strumento purtroppo in interfaccia ce ne accorgiamo però il cambiamento è troppo importante per aspettare che sia definitivo il cambiamento per poter passare a GA4 quindi un rischio c'è da prendercelo e perché come agenzia abbiamo identificato tre macro area per le quali secondo noi è stato necessario agli occhi di Google implementare questo passaggio primo è più sostenibile da un punto di vista economico perché è più sostenibile perché si azzerano tutti i dati semplicemente a un certo punto loro cancelleranno tutto lo storico di Universal Analytics azzerando i costi in GA4 rispetto ad Universal Analytics non ci sono più le viste voi siete abituati a ragionare su una struttura di account proprietà e vista bene sappiate che le viste spariscono completamente in Universal Analytics se volete creare delle viste filtrate lo dovete fare direttamente solo e soltanto a livello di report questo cosa ci fa pensare ci fa pensare che diminuisca di molto il costo computazionale adesso quando arriva una nuova hit da un browser l'analytics deve fare dei processi per inserirla o non inserirla o modificarla all'interno delle viste che poi non dovrà più fare in più e questa cosa è molto delicata ci torneremo più avanti by design per forza Google Analytics 4 non è pensato per tenere i dati per sempre quindi con un account gratuito voi non potrete tenere i dati grezzi quindi i dati dei singoli eventi più di 14 mesi oltre i 14 mesi potrete vedere soltanto i report standard ma se volete andare a scavare nei report standard se volete andare a filtrare i report standard se volete andare a mescolare i dati a fare delle metriche ad incrociare delle dimensioni voi non lo potrete fare con dati più vecchi di 14 mesi questo fa sì che per sempre lo strumento sarà più sostenibile è soltanto una questione di soldi assolutamente no GA4 è pensato per essere molto più robusto a tutte le tematiche del mondo privacy GDPR compliance con le policy eccetera in che modo è più sostenibile bene primo punto l'abbiamo visto prima rapidamente ci sono dei tentativi di avere dei proxy delle strutture che prendono i dati e li inoltrano questa cosa può essere fatta su dei domini in Europa ma può essere fatto tramite tag manager server side anche su dei vostri server quindi voi potreste tramite Aruba registrare un server che fa da proxy quindi la 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 hit parte dal browser del vostro utente non va direttamente nei Stati Uniti ma passa dal server di Aruba e dal server di Aruba viene spedita negli Stati Uniti questa cosa fa sì ovviamente che l'IP sia protetto e che voi abbiate un grande controllo di quello che va a finire negli Stati Uniti che è esattamente la direzione nella quale vuole andare il GDPR e varie tematiche di compliance quindi GA4 introduce la possibilità di avere un meccanismo di proxy qualcuno che legge il dato lo pulisce e lo inoltre in più di default cancella completamente gli IP all'interno dei dati salvati e cosa ancora più interessante che vedremo nel dettaglio si sono inventati nuove metriche nuovi metodi per calcolare le metriche così da avere dati molto robusti anche in un contesto super confusionario noi sappiamo che una volta l'analitica era molto brava a determinare con esattezza che cosa succedeva sul sito adesso vuoi perché l'utente non accetta i cookie di tracciamento vuoi perché browser sistemi operativi sono sempre più attenti e ci danno sempre meno informazioni sta diventando molto più difficile andare a scavare e avere il controllo preciso del dato bene analytics 4 è robusto per questo genere di di problema e si sono inventati dei modi che poi vedremo per mitigare il problema e darvi il miglior dato possibile anche se non è più la verità il terzo aspetto per il quale era necessario per Google passare a GA4 è stato necessario è che ci porta realmente nel futuro su tanti aspetti primo aspetto si usa un solo tag che è universale lo stesso tag funzionerà con analytics 4 tag manager google ads optimize eccetera un tag per tutto e questa è una svolta che accelererà molti processi di sviluppo futuro secondo questa architettura permette a Google di dare delle metriche predictive le vedremo anche queste nel dettaglio più avanti praticamente per Google sarà possibile capire cosa faranno i vostri utenti in futuro quindi potrete dire trovami gli utenti che non hanno ancora comprato ma che è più probabile che compreranno nei prossimi sette giorni pensate alla potenza di questo strumento per per esempio fare campagne di marketing in più ci saranno meccanismi dove lo strumento stesso navigando GA4 stesso ci evidenzierà i problemi principali in più ci avvicina a un nuovo mondo dell'advertising nel quale Google ha bisogno di sempre più dati e questi dati devono avere un valore molto più alto vedremo che cosa intendo ma noi tramite GA4 passeremo a Google dati sempre più qualificati sempre più pieni di contenuto di significato cioè non gli diremo questo è un evento ma gli diremo questa persona ha fatto un evento di login e lui capirà che quella è una persona che ha fatto il login allora abbiamo comunque un problema perché come abbiamo detto all'inizio non è uno strumento pronto non è uno strumento assolutamente intuitivo e per tante aziende può essere un grosso costo passare come possiamo raccontarlo allora ai nostri decisori ai nostri colleghi che non fanno marketing digitale al nostro board alla nostra amministrazione com'è che li possiamo far capire il valore che c'è in in GA4 beh per prima cosa banalmente non abbiamo scelta siamo già in ritardo per passare a GA4 dobbiamo assolutamente investire in GA4 già se partiamo oggi non possiamo fare un confronto anno su anno dovremo fare un anno su GA3 un anno su GA4 e i dati saranno sicuramente differenti in più prima passiamo a GA4 prima potremo fare eventi come questo e fare formazione su GA4 e cercare di crescere su internamente sullo strumento il secondo aspetto è di compliance ossia lato GDPR stanno continuando e continueranno a esserci sempre più sentenze sulla non compliance di Analytics 3 non sappiamo se quanto Analytics 4 è compliant probabilmente ci sono delle configurazioni di GA4 che utilizzano server site tracking in particolare che saranno comunque totalmente compliant lato GDPR ma per tantissime aziende adesso il problema principale è smarcarsi da Universal Analytics che è certamente non compliant e sul quale i garanti di tutta Europa ormai hanno gioco veramente facile nel avere una nel mandare insomma dei giudizi negativi su Analytics 3 terzo aspetto beh perché farsi troppe domande Analytics 3 e 4 possono andare in parallelo si possono avere contemporaneamente i due tracking e GA4 fornisce metriche ulteriori in più anche se voi siete bravissimi a fare tutte le implementazioni come sapete l'errore è sempre dietro l'angolo avere per un periodo in parallelo GA3 e GA4 potrà dare una linea guida e far capire dove state sbagliando e quanto e arrivare magari con un dato sempre migliore di GA4 prima che GA3 il primo luglio smetta di funzionare passiamo al secondo punto mi raccomando fate domande così poi nell'ultimo quarto d'ora ci confrontiamo su quelli che sono stati i vostri problemi quindi non facciamo tanti momenti di domande preferiamo arrivare alla fine e poi gestirle tutte ma le stiamo raccogliendo visto un attimo che cosa cambierà perché cambierà e come governare all'interno dell'azienda il cambiamento delle vostre organizzazioni i cambiamenti andiamo a vedere quali sono le le logiche nuove quali sono i meccanismi che prima non c'erano che verranno introdotti il primo concetto fondamentale è il concetto di stream ossia GA4 si basa su degli stream di dati ossia prende informazioni da uno stream di tipo web classico quello al quale siamo abituati con Analytics 3 ma anche dalle app Android e anche delle app iOS e volendo fonde tutti questi stream in un unico nei soliti report quindi ci aspettiamo di avere per ogni account tipicamente per ogni proprietà tipicamente tre stream di dati web app Android app iOS se avete solo il web si fa solo con il web non è un problema se avete più siti internet o più sottodomini diventa più delicato sicuramente c'è l'opzione di mettere in tutti lo stesso codice per avere lo stesso stream di dati e poi ci sarà Analytics 4 tramite dei report che potrete andare a fare a separare i vari sottodomini quindi si raccoglie diciamo così per sorgente andiamo in concreto magari voi avete più siti internet in questo caso ho fatto www.miossito.it chi siamo blog e-commerce potete mettere su tutte le proprietà sempre lo stesso lo stesso codice lo stesso codice di Analytics che rappresenta lo stesso stream di dati se siete un'azienda un po' più grande e ha bisogno di governare i livelli di accesso per esempio fare in modo che non lo so un'agenzia esterna veda soltanto e-commerce ma non veda nient'altro ci sono le proprietà secondarie come funzionano le proprietà secondarie beh semplicemente all'interno di una proprietà ordinaria si possono identificare quelle che sono delle proprietà secondarie quindi un sottoinsieme di tutto il dato che poi ha degli accessi autonomi quindi voi non date all'agenzia che vi gestisce per esempio l'e-commerce tutto l'accesso alla proprietà ma gli avete accesso soltanto alla proprietà secondaria questa è una funzionalità a pagamento quindi bisogna avere Analytics x360 che ha un range di costi molto variabile ma comunque diventa una cosa già a pagamento perché stresso questo concetto perché una volta questa cosa era molto più semplice da fare tramite le viste quindi andate a rivedere i vostri account pensate avete account proprietà viste attenzione che tutte le logiche di visibilità che avete implementato a livello di vista non si potranno portare in GA4 se non con cose come le proprietà secondarie che però sono a pagamento quindi bisognerà essere molto bravi molto in gamba o a poter pagare una proprietà se non si può pagare una proprietà secondaria a lavorare con le varie proprietà ordinarie quindi magari creando più proprietà all'interno dello stesso sito con il rischio però di fare confusione di andare su dei tracciamenti che non sono standard quindi questo è il primo punto di attenzione la forza è quella del datastream datastream che poi quando funziona vi permette di avere numeri così che sono veramente molto interessanti per un web analyst questo è un report dove i 18 milioni di utenti tracciati sono al 46% su Android al 32% su web al 21% su iOS e vengono naturalmente fusi dallo strumento quindi GA4 è sicuramente una manna dal cielo per tutti quei business che hanno anche delle app iOS e o Android altrimenti questa cosa un po' ce la perdiamo ma è giusto vedere anche la direzione di Google il secondo concetto fondamentale è quello della modellazione allora partiamo da che cos'era il mondo di GA3 senza la modellazione in GA3 il nome che abbiamo dato per brevità Universal Analytics se c'era un evento partiva un javascript se funzionava la chiamata in javascript partiva il pacchetto il pacchetto arrivava sul server di Google e noi contavamo quello che succedeva quindi Analytics 3 era un contatore di quello che succedeva ci faceva vedere quello che vedeva essere successo non c'erano delle logiche particolari in GA4 esiste e sarà sempre più forte un concetto di modellazione quindi ci sarà una parte di cose che Google vede e un'altra tanto grande parte di cose che Google non vede ma comunque ci restituirà in qualche maniera vediamo un esempio partendo dall'advertising questa è una slide che è riferita anche all'universo Google Ads dove le logiche saranno veramente simili immaginiamoci mille click sullo stesso annuncio che ci portano divisi così 500 click sono di persone che poi arrivano sul sito e danno il consenso le altre 500 click sono fatte da persone che poi atterno sul sito e non spuntano sul consenso quindi noi sostanzialmente non abbiamo Analytics classico non possiamo mettere un cookie non possiamo tenere il tracciamento del G-Lead di Google Ads con Analytics 3 noi vedremo soltanto la parte sopra ok noi vedremo soltanto i 500 che ci fanno vedere che ci dicono ok potete tracciarmi con Universal oltre a osservare la parte sopra quindi vediamo che magari su 500 click ci sono 50 conversioni e quindi leggiamo misuriamo siamo certi di un conversion del 10% sotto questo strumento si inventerà calcolerà quante potrebbero essere state le conversioni anche di chi non ha visto in questo caso il modello dice che sono 9 quando andremo a vedere i report in Analytics e anche in Google Ads non vedremo 50 conversioni solo quelle viste ma 59 quelle viste più quelle modellate questo indipendentemente dal fatto che poi magari non sono 9 quelle che ci sono realmente state nei 500 click ma potrebbero essere 12 come nell'esempio o 7 o 5 o nessuna o 20 questo modello viene generato da Google e sarà Google che studiando tanti siti studiando il vostro traffico stimerà alla luce del 10% di tasso di conversione che vede l'1.8 di tasso di conversione su quelli che non vede è sempre 1.8 assolutamente no è soltanto un esempio Google ci promette che farà quanto di suo quanto meglio gli è possibile per stimare sempre più correttamente questa cosa cambia tutto perché se considerassimo le conversioni soltanto 50 avremo un tasso di conversione appunto del 5% se ne consideriamo 59 abbiamo un 5,9% vuol dire far crescere le conversioni misurate del 18% ci piace? non ci piace? beh se dovessi dirvi qual è il dato più vero sicuramente è più vero parlare di 59 che parlare di 50 perché sicuramente i 500 che non mi hanno dato il consenso almeno un quinto di chi mi ha dato il consenso di tasso di conversione lo avranno quindi se da una parte ho il 10 dall'altra parte mi posso aspettare un 2% certo che entriamo in un mondo dove dovremo imparare a gestire cose che non sono più misurate ma sono appunto modellate questa logica si fa tramite il consent mode che ha anche dei vincoli piuttosto importanti quindi per metterci queste statistiche dovranno essere siti parecchio navigati quindi si parla di 1020 giornalieri con consenso dato e 1000 senza il consenso dato negli ultimi 7 giorni non sono numeri da tutti più è difficile la conversione più sarà difficile avere modellazione ma è l'idea qua che ci dobbiamo portare a casa perché poi Google lo sappiamo espanderà sempre di più ci saranno già dei meccanismi per popolare direttamente i report adesso sono ancora in beta però ci permetterà di vedere nei report di Analytics sia se il report è campionato o no cosa che vediamo anche adesso a seconda della spunta verde oppure no se il report è campionato oppure no e poi ci dirà se i dati sono solo reali o se includono anche i dati stimati quindi prepariamoci a questa grande rivoluzione nel mondo di leggere i dati questa modellazione è super interessante e super efficiente adesso l'abbiamo vista rispetto al da o non da il consenso essere tracciato tramite il banner classico bene sappiamo che però Google ci promette modelli per tutte le altre casistiche per esempio ci permette modelli per tracciare il cross device quindi l'utente che oggi entra da pc domani entra da cellulare Google dice che cercherà di farlo essere il solido utente cioè cercherà di capire quante persone stanno accedendo con browser differenti ma sono la stessa persona quindi anche in questo caso si prenderà delle licenze inventerà diciamo di sì ma ci cercherà di restituire dati migliori nonostante il sempre più alto caos che ormai regna tra i vari dispositivi i vari browser le varie tecnologie quindi per tutti i problemi di tracciamento Google dice attenzione noi cercheremo di creare modelli che possono essere in alternativa modelli che possano funzionare lo stesso l'altra grande novità riguarda gli eventi ossia noi eravamo abituati a un mondo dove c'erano le visualizzazioni di pagina gli eventi le transazioni e questo era gli universal in GA4 tutto è un evento quindi noi saremo abituati a successioni solo di eventi la page view banalmente diventerà un evento e sparisce anche il concetto di sessione noi eravamo abituati a pensare a un utente sotto l'utente l'utente ha fatto tante sessioni per ogni sessione c'erano pagine viste e eventi in futuro avremo un utente e un flusso in interrotto di eventi alcuni eventi saranno pagine viste altri eventi saranno eventi tracciati da noi quindi cosa ci portiamo a casa la centralità del del tracciamento degli utenti è il fatto che sparisce il concetto di sessione che poi viene ricostruito ma insomma non è così centrale il concetto di sessione tant'è che vediamo metriche in piattaforma come l'acquisizione utente piuttosto che l'acquisizione di traffico tant'è che da un modello classico degli eventi di Analytics 3 dove noi avevamo azione categoria etichetta e potevamo mettere questi tre parametri e basta massimo un valore in Analytics 4 ci troviamo ad avere diverse famiglie di eventi che approfondiremo quindi avremo gli eventi raccolti automaticamente le misurazioni avanzate che approfondiremo gli eventi consigliati gli eventi personalizzati cioè diverse famiglie di eventi quello che prima erano uno standard con tre campi da riempire volendo un valore diventerà un mondo nuovo di un modo nuovo di tracciare nuove opportunità che si aprono in questo universo beh prima cosa il concetto di utenti unici cambierà radicalmente ossia adesso noi siamo abituati che l'utente unico viene visto tramite i cookie che ha oppure dobbiamo essere noi a passare un identificativo utente in futuro Google per farci vedere quanti sono gli utenti unici avrà un'altra arma potrà utilizzare l'identificativo utente che gli passa il sito e ok Google Signals se questo non viene messo quindi Google sfrutterà le informazioni legate al login quindi io sono loggato su desktop sono loggato su mobile vengo sul vostro sito da mobile vengo sul vostro sito da desktop tramite Google Signals Google dirà ma guarda che lui è sempre Marco Quadrella e quindi sarò lo stesso unico e tornerà il discorso degli utenti che abbiamo detto prima quindi non gli interesserà più vedere un utente che non sa come si chiama su mobile un utente che non sa come si chiama su desktop ma vedendo che sono loggato da entrambe le parti mi farà diventare sempre di più il solito utente non gli passa l'id utente l'azienda non gli passate voi l'id perché l'utente magari non è loggato non lo riesce ad associare Google tramite Signals che sfrutta il login solo in questo momento si utilizzano allora i cookie quello che lì vedete come id dispositivo non funzionano neanche i cookie perché tramite banner non posso mettere i cookie bene solo a quel punto si attiveranno anche le conversioni modellate quelle che vedevamo le definizioni modellate quelle che vedevamo prima quindi Google ha cecato non ha i dati passati da voi non ha Signal non ha i cookie comunque pur di non darvi zero cercherà di stimare al meglio tramite l'intelligenza artificiale ovviamente questa è un'opzione potrete decidere se avere il dato sfumato che è una traduzione pessima e ridicola di Blended oppure di avere in piattaforma soltanto i dati realmente osservati saranno di meno saranno meno precisi ma almeno saprete che sono quelli che realmente vengono visti quindi se banalmente un utente non accetta i cookie non vedete niente non ci sarà nessun algoritmo che cercherà di stimare che cosa voleva quanti utenti hanno fatto cose anche senza aver dato il consenso di tracciamento altro cambio epocale riguarda i modelli di attribuzione noi siamo abituati ad un mondo nel quale il merito delle conversioni viene dato tutto all'ultimo canale che porta la visita escludendo il diretto quindi quando voi aprite un report di Analytics 3 e vedete i social media hanno fatto 5 conversioni Google Ads ha fatto 10 conversioni newsletter ha fatto 10 conversioni intendete che li ha fatti come ultimo punto di contatto quindi magari un utente che entra prima da social poi da Google Ads e poi da newsletter e compra nei vostri report di GA3 tipicamente ha due sessioni le prime due senza nessuna conversione l'ultima sessione che ha il 100% del merito della conversione questa cosa viene rivoluzionata in GA4 dove l'attribuzione è basata sui dati quindi c'è un calcolo statistico sulle base dei dati del vostro sito per capire se è giusto dare il 100% del merito all'ultimo canale che ve l'ha portato o se magari il merito corretto è 33 33 33 oppure 25 25 50 cioè a chi deve andare il merito di quella conversione intuitivamente è facile capire che non possiamo dare tutto il merito agli ultimi però in Universal Analytics saremo abituati così lo standard di GA4 è la data driven attribution che era una cosa prima soltanto possibile a pagamento adesso è gratis per tutti potete decidere quanto tempo indietro andare a cercare le sessioni fino a 90 giorni un'idea molto rapida per capire come funziona questa data driven attribution è roba da statistici non dovete capirla per forza non è interessante se il vostro lavoro non è fare il web analyst ma uno spunto secondo me può essere interessante passarlo come fa Google ad essere così sicuro di capire se in quella parte di percorso il valore è il 30 o il 20% di quel canale banalmente pensate a questo approccio lui si vede tanti percorsi di conversione del vostro sito o di altri siti simili al vostro e vede che ci sono due casistiche in un caso l'utente fa paid search social affiliation search e compra nel 3% dei casi in un altro caso fa paid search social affiliate e non fa il passaggio search SEO e in quel caso converte nel 2% dei casi se ne deduce che in quella particolare configurazione avere la SEO impatta il 50% del tasso di conversione spero che sia più o meno logico cioè avere o non avere la search come ultimo touch point impatta il 50% sui tassi di conversione quindi in quel valore lui lì ha il 50% del valore Google fa la media di tutte le medie di tutti i percorsi di conversione simula con altri siti simili al vostro e riesce a dirci canale per canale in ciascuna posizione quant'è l'impatto che state avendo per ciascun canale molto più interessante di come eravamo abituati prima a ragionare solo sull'ultimo click i numeri possono cambiare di tantissimo guardate questo grafico di un nostro cliente prendete per esempio la riga 5 quella dove c'è il tracciamento degli affiliati se diamo il merito all'ultimo click gli affiliati hanno portato 4.785 conversioni generando 700.000 euro di fatturato se però vediamo basato sui dati il fatturato generato dagli affiliati quindi il fatturato che probabilmente non ci sarebbe stato senza gli affiliati è soltanto 570.000 euro quindi c'è balla un 19% e il 19% è parecchio guardate addirittura i social sono sottostimati di un 29% la pubblicità display alla riga 7 è sottostimata del 24% stiamo attenti perché sarà un passaggio epocale perché sposterà come vengono allocati i budget quindi da tutto il merito all'ultimo che è quello che eravamo abituati a fare adesso nei report standard di Analytics 3 a il merito viene distribuito analizzando tutti i percorsi e cercando di capire ruolo per ruolo quali sono le performance ulteriore spunto Analytics 3 era uno strumento abbastanza statico non ci aspettavamo di essere avvisati da Analytics 3 in Analytics 4 non sarà più così entrando in interfaccia ci stimolerà e ci dirà guarda che Google Organic ha generato il maggior numero di conversioni in questo periodo guarda che c'è un picco anonimo di utenti con un browser Android WebView cioè analizzerà costantemente tutti i nostri dati e ci dirà guarda che ho trovato anomalie funzionalità super interessante soprattutto per chi non ha un web analyst che controlla quotidianamente tutti i dati e soprattutto che può permettersi di fare molte più analisi di quelle che fa un web analyst in un giorno quindi poi trovare il significato in questi numeri è sempre più difficile ma è molto interessante pensarla diversamente cioè metto GA4 perché avrò anche dei feedback dallo strumento quando troverà cose che non gli tornano poi sarà da capire perché sono successe ma sicuramente interessante addirittura voi in GA4 potete settare i vostri alert personalizzati quindi potete dire guarda tutte le settimane tutti i giorni tutti i mesi rispetto al traffico di in questo caso tutti gli utenti se la metrica di vendite presenta anomalie se la metrica di traffico presenta anomalie quindi potrete settare voi su che base temporale fare i controlli su quali metriche fare i controlli e ricevere delle mail tutte le volte che c'è qualcosa di strano di nuovo poi ci sarà bisogno di competenza per andare a vedere che cosa è successo ma già di per sé non è poco avere uno strumento che vi mandi il segnale vi pinghi vi mandi la mail certe volte fa la differenza per non lasciare un sito troppo abbandonato l'altra rivoluzione che abbiamo accennato ma chiariamola è che in Universal Analytics quindi in Analytics 3 i dati potevano non scadere mai in GA4 i dati possono rimanere in piattaforma due mesi o al massimo 14 mesi a meno che voi non abbiate Analytics 360 360 in quel caso potete arrivare fino a 50 mesi di periodo di retention è un bel salto vi ripeto questo non vuol dire che poi Analytics non vi farà vedere i report standard i report standard li potrete vedere anche più di 14 mesi all'indietro ma se avete necessità di fare dei filtri segmentare beh questa cosa non la potrete fare più indietro di 14 mesi l'unica alternativa appunto è appoggiarvi degli altri strumenti dei database vostri che tengano anche tutto lo storico dei dati ulteriore probabilità e cambiamento di mentalità ok? questi sono tutti dei cambiamenti di mentalità che sono necessari per l'advertising ci sono dati probabilistici che prevedono il futuro esempio concreto ci sono tre metriche per ora purchase probability la probabilità che una persona compri churn probability la probabilità che una persona che è stata sul sito non torni più nei sette giorni successivi o che ha aperto l'app non ha più l'app nei sette giorni successivi predictive revenue la metrica ancora più complessa prende tutti gli utenti attivi negli ultimi 28 giorni e ci dice quali saranno il fatturato generato nei prossimi 28 giorni quindi partendo da 28 giorni di traffico passato vi dice quali saranno gli utenti e quanto fattureranno quegli utenti in futuro sembra veramente una cosa magica in realtà un po' lo è in realtà lo può fare google perché ha veramente tantissime analisi di tutti i percorsi di conversione di tutti gli utenti in realtà un po' ci torna cioè noi ci immaginiamo che se potessimo avere infinito tempo di vedere tutte le sessioni degli utenti saremmo in grado di capire chi oggi non ha comprato ma magari tra un po' comprerà il fatto è che non abbiamo le forze spesso per metterci sul sito e una volta che anche abbiamo scoperto che quell'utente potrebbe in realtà comprare non sappiamo come andarci la ripescare analytics fa il lavoro per noi studia tutte le sessioni e ci dice questo è il 5% degli utenti che è più facile che acquisti nei prossimi sette giorni a quel punto questi insieme noi lo possiamo mettere per esempio in google ads e fare pubblicità soltanto sul 5% degli utenti che è più facile che comprino nei prossimi sette giorni pensate che rivoluzione che è anche da un punto di vista diciamo così di di meccaniche di logiche di modi per vedere la web analytics non più uno strumento che ci dà i numeri ma uno strumento che ci ci aiuta a calcolare anche quei numeri che sono probabilistici non sono neanche così certi ma ci contengono già una parte di analisi dentro insomma non sono più soltanto conteggi e percentuali ma sono numeri con un valore molto più alto di in alcuni casi modellazione per resistere ai problemi che ci sono dei dati piuttosto che visione sul futuro ovviamente continuate a far domande cercheremo di rispondere al maggior numero di domande possibili al termine della chiacchierata abbiamo visto il cambiamento come raccontarlo perché è stato così necessario anche se sicuramente GA4 non è uno strumento ancora pronto soprattutto a livello enterprise abbiamo visto quali sono i nuovi meccanismi che ci sono e le nuove opportunità che crea per le aziende che vogliono imparare a vedere i numeri in maniera differente passiamo adesso alla parte che forse interessa maggiormente alcuni di voi ossia quali sono gli step che devo seguire per fare il passaggio da Universal a GA4 attenzione lo ripeto parlo di passaggio ma non è detto che sia uno spengo Universal accendo GA4 parlo di passaggio ma è una continuità andiamo a vedere quali sono questi step allora il punto zero di qualsiasi attività di Analytics ma che diventa fondamentale quando si parla di GA4 è crearsi un measurement plan che cos'è il measurement plan e perché è così importante il measurement plan è un invito è un documento interno all'azienda che chiede a tutti ragazzi ma che cos'è che vogliamo misurare perché mettere su GA4 per mettere su GA4 è molto facile difficilmente avrete problemi ma è proprio un peccato avere un cambio così epocale e non sfruttarlo per ripensare la domanda principale ed è che cosa ci vogliamo fare con lo strumento di Web Analytics cosa voglio tracciare adesso e domani che segmenti voglio avere quindi voglio tracciare tutti gli utenti allo stesso modo voglio avere per esempio uno split tra gli utenti cos'è che tanto non mi servirà mai che è rimasto storicamente su Analytics ma sono dati che tanto eventi che non guardo mai chi dovrà avere gli accessi dei miei dati quali account dovrò collegare dovrò collegare Search Console dovrò collegare Google Ads dovrò collegare boh pensiamoci è l'occasione perfetta per fare un punto zero anche a livello strategico su tutta la questione di gestione del dato una volta capito che cosa voglio tracciare come lo voglio segmentare quindi voglio per esempio vedere in due report differenti il traffico degli utenti nuovi e il traffico degli utenti di ritorno oppure voglio segmentare per utenti che hanno fatto il login o che non l'hanno fatto oppure voglio segmentare per utenti che non mi hanno mai mandato un contatto o utenti che mi hanno contattato almeno una volta quindi immaginate per che cosa vorreste voglio segmentare immaginate i numeri che vorreste vedere in una dashboard in un'analitica che diciamo così gestisce tutte le vostre esigenze che può veramente supportarvi nel governo delle attività di marketing digitale e solo a quel punto pensate quali eventi vorrò implementare quali saranno le dimensioni e le metriche personalizzate che vorrò avere cioè ci sono delle cose che Analytics non mi dà standard ma che mi piacerebbe vedere all'interno dei report per esempio non lo so vedere veramente per ciascun grafico la differenza tra utenti logati e utenti non logati o tra clienti che mi hanno comprato il servizio A e clienti che mi hanno comprato il servizio B tramite le dimensioni personalizzate sono tutte cose che si possono arrivare a fare e terzo aspetto le conversioni cioè che cosa per me è una metrica di successo che voglio misurare come una conversione questo tipo di approccio ma veramente sul measurement plan vi consiglio di andare ad approfondire prendetelo come punto zero ma soprattutto prendetelo come un'occasione ossia vi ripeto se usate poco Analytics 3 passate l'informazione allo sviluppatore chiedetegli di caricare Analytics 4 in qualche maniera i dati si cominciano a popolare voi progressivamente smettete di vedere i dati da 3 andate su 4 e il passaggio è fatto però ci teniamo a stressare il fatto che state perdendo una grossissima opportunità di riavere uno strumento vestito veramente di nuovo non soltanto con nuove funzionalità e il punto zero è domandarvi se avete voglia di impegnarvi nella creazione di un piano di misurazione avanzato per il resto per il passaggio strettamente tecnico avrete le slide ma chiaramente Google per primo ha fatto un elenco delle azioni da compiere primo aspetto è sicuramente immaginare la struttura dell'account e prendere il codice da aggiungere ossia se prima avevate tante viste adesso come sostituirete queste viste creando più account creando più proprietà se non le avevate vi possono servire può servire avere più proprietà differenti di Analytics una volta che avete stabilito questo potete andare ad aggiungere il codice nelle pagine secondo aspetto c'è un mondo in GA4 legato appunto alla compliance faccio un esempio molto concreto di default GA4 tiene due mesi di dati se volete mettere almeno 14 mesi di dati dovete andare sicuramente in piattaforma impostare i 14 mesi di dati di dati di default GA4 non attiva Google Signals quindi quello strumento che vi permette di sfruttare il login in Google per unire in uno stesso utente sessioni differenti dovete andare ad implementarlo ma Google Signals ha enormi problemi di GDPR quindi sicuramente il passaggio a GA4 per i più coraggiosi di noi deve può essere il momento per sedervi accanto al vostro DPO e porvi il problema di come essere compliant ok ci sono poi tanti setup in piattaforma tipici ma veramente neanche così particolari rispetto a GA3 ma è il lavoro che l'ha fatto punto 3 connessioni varie ricordatevi che il motivo per il quale Analytics sarà sempre Analytics e non sarà mai sostituibile in un altro strumento è Google Ads quindi soprattutto se usate Google Ads appena avete l'account collegatela a Google Ads ma anche a Google Search Console quindi lo strumento gratuito di Google il 30 di novembre parleremo sempre in questo percorso in questa Digital School di Aruba Business anche di tutti gli strumenti gratuiti che Google mette a disposizione step 4 se avete degli eventi custom in GA3 vedete come trasformarli in eventi di GA4 quindi sappiamo che in GA3 sono hanno quella struttura tipica di etichetta azione e categoria in GA4 dovremo capire come trasportarli cambia ma questo vale soltanto per gli e-commerce e soltanto se siete degli sviluppatori il data layer per la parte di tracciamento e-commerce qua non approfondisco sappiate che per quanto riguarda l'universo e-commerce ci sono più dati quindi se avete un e-commerce sviluppato da voi dovete mettere più informazioni nel data layer e potete togliere qualche informazione se utilizzate i gestionali e-commerce più famosi Shopify Magento eccetera PrestaShop non vi preoccupate perché chiaramente GA4 è già abbastanza grande è già abbastanza famoso perché ci siano già persone che hanno sviluppato le integrazioni con i data layer quindi è abbastanza semplice se vi siete appoggiati su questi gestionali e-commerce diciamo così di nuova generazione Punto 6 dovete settare le conversioni dovete decidere quali sono gli obiettivi tutto un settaggio che avete già fatto in Analytics 3 dovete rieplicarlo in GA4 e se avete cambiato il piano di misurazione dovete capire che cosa cambiare e che cosa no quindi dovete decidere quali eventi e quali parametri per gli eventi vederne i report dovete decidere se ci sono delle dimensioni e delle metriche personalizzate e settarle dovete settare i vari obiettivi di conversione step 7 ultimo step ovviamente dovete capire come gestire gli accessi quindi girare gli accessi a tutti a tutti quelli che che ne hanno bisogno all'interno dell'organizzazione chiudiamo con gli ultimi due aspetti abbiamo detto che il ruolo degli eventi è centrale in GA4 e secondo noi la cosa più interessante anche per le connessioni che ha con il mondo dell'advertising della pubblicità insomma è appunto quella degli eventi standard ossia in GA3 era il webmaster il digital analyst che sceglieva che cosa tracciare e decideva lui che nome dare a ciascun evento Marco Quadrella che fa consulenza a n aziende doveva imparare che cosa tracciava ciascuna azienda e come lo chiamava quindi magari l'azienda 1 chiamava il login login l'azienda 2 lo chiamava registrazione erano la stessa azione su due siti differenti GA4 interviene molto seriamente prende molto sul serio questo problema e si inventa una serie di tracciamenti tra virgolette standardizzati cioè vuole che determinate cose si chiamino proprio come dice lui quindi c'è un evento da far partire quando l'utente carica i propri dati relativi al pagamento un evento da far partire quando l'utente mette i dati relativi alla spedizione un evento da far partire quando l'utente aggiunge il prodotto alla wishlist al carrello un evento da far partire quando l'utente ci genera un lead quindi ci lascia il contatto un evento da far partire quando parte il check out un evento da far partire quando l'utente entra nel carrello e avanti così qual è la la rivoluzione copernicana che finché questi eventi erano creati differentemente da ciascuna persona per Google era molto difficile creare delle metriche predittive che li usassero perché lui non sapeva che quell'evento volesse proprio dire aggiunta al carrello non sapeva che quell'evento volesse proprio dire non lo so ha messo le informazioni di shipping adesso invece tutti i siti del mondo sono incentivati a dire la stessa cosa nello stesso modo ancora si supera il tema e-commerce e ci sono degli eventi standard per l'impression dell'advertising per il fatto che l'utente abbia fatto login per il fatto che l'utente abbia cercato all'interno dei contenuti e ci sono una serie di report che vi fanno capire quanto sta andando avanti Google anche relativo al mondo dei videogiochi per esempio perché ricordiamoci sempre che GA4 è pensato anche per iOS ed Android quindi per esempio c'è un evento quando l'utente inizia il tutorial e lo finisce un evento quando l'utente spende una moneta virtuale cosa che succede tipicamente nei videogiochi o un evento per quando l'utente guadagna una moneta virtuale quindi dov'è il fine ultimo di questa rivoluzione generale è che se noi cominciamo a chiamare tutti i web analyst tutte le cose con lo stesso nome uno educhiamo Google sempre meglio nelle sue metriche predittive e nelle sue stime due gli permettiamo di fare dei segmenti di remarketing sempre più efficaci quindi quando questi dati vengono passati in Google Ads Google a quel punto acquisirà sempre più informazioni saprà sempre meglio quanto era buono il traffico anche quando non ha convertito saprà sempre di più chi andare a ripescare quindi per esempio preferirà in caso di un carrello abbandonato andare a ripescare chi ha abbandonato il carrello ma dopo aver già dato l'indirizzo e le informazioni di spedizione piuttosto a chi ha abbandonato il carrello ma queste informazioni non le ha date quindi sarà sempre più bravo il ruolo di noi digital marketing specialist consulenti in area digital per le aziende sarà sempre di più fare quello scalino che ancora Google non può fare nel portare la tecnologia in azienda perché il grosso degli insight il grosso dell'analisi sarà sempre fatto più in autonomia da Google e la stessa cosa vale per la gestione delle campagne cosa voglio dire sono dati che anche l'umano ha assolutamente sì ma quando tu metti una macchina e un umano ad avere accesso alla stessa quantità di dati e questi dati sono pochi puoi sperare che l'umano faccia delle deduzioni migliori ma quando tu metti uomo e macchina a confrontarsi per esempio nel prevedere delle azioni di un utente e dai decine e decine e decine di punti dato per l'umano è sempre più difficile riuscire ad arrivare a capo di percorsi sempre più complessi e quindi comincia a vincere la macchina e quando comincia a vincere la macchina vuol dire che il target di advertising che fa Google Ads in autonomia tendenzialmente sarà sempre migliore da quello che riesce a fare l'umano questo è un salto enorme nel mondo della web analytics una web analytics che ha sempre più informazioni all'interno e che permette di avere campagne di Google Ads sempre più efficaci è un mondo che non è più centrato sull'e-commerce ma che riesce a fare campagne efficaci anche quando si parla di videogiochi anche quando si parla di ad impression quindi di portali che vendono pubblicità e piuttosto che avere metriche dei portali che cercano i contatti online quindi il classico idraulico che ha bisogno di lead lui qua vuole sapere quando vi lasciano il lead e vuole essere sicuro di avere controllo davvero ci sono degli eventi custom per quando l'utente sale di livello cioè cose che veramente erano impensabili in Universal Analytics che neanche c'era nelle app ultimo aspetto prima di passare alle domande è tutto il mondo degli eventi enhanced una delle cose che fa GA4 che possono essere molto interessanti per chi non ha un team di sviluppatori è che mette il web analyst la persona che ha accesso alla web analytics veramente al centro e lo rende sempre più indipendente quindi sempre meno spazio per persone come me che fanno i consulenti ancora meno spazio per gli sviluppatori sempre più potere a chi ha l'account se andate nei vostri account nelle opzioni e in dettagli degli stream web adesso chiaramente ho creato un profilo di test avete il vostro sito avete il vostro identificativo degli stream avete il vostro ID di misurazione e sotto avrete la misurazione avanzata misurazione avanzata è un regalo che vi fa Universal Analytics che vi aiuta a tracciare molto più di quello che tracciavate prima vediamo che cosa c'è qua dentro e poi chiudiamo eravamo abituati a un mondo dove il codice standard di analytics quindi sul 99% dei siti soprattutto dei piccolini chi aveva il webmaster che non gliene fregava niente non era pagato per far la parte di webanalytics prendeva il codice lo metteva in pagina e finiva lì e questo codice generava solo e soltanto pagine viste voi avevate i report popolati solo e soltanto di pagine viste adesso sempre e soltanto con il codice standard in pagina potete tracciare molto di più cos'è questo molto di più andiamo dall'alto sicuramente le visualizzazioni di pagina quelle le tracciate per forza non potete decidere che non vengano tracciate e questo ci sta ma se volete con una semplice spunta quindi non dovete neanche passare in tag manager non dovete passare per lo sviluppatore dovete soltanto fare una spunta voi avrete in piattaforma le statistiche su quanto scorre a un utente quindi l'utente è arrivato in fondo alla pagina è molto interessante se voi avete dei progetti editoriali o avete una landing page molto lunga dove raccontate tutte le caratteristiche per esempio non lo so delle camere del vostro albergo o dei prodotti della vostra azienda che vende ad altre aziende sapere che percentuale è arrivata fino in fondo degli utenti andare magari a riprendere con attività di advertising non tutti gli utenti ma solo che è arrivato in fondo o comunque andare dal vostro copywriter andare da chi vi produce il contenuto e dire ragazzo qua hai fatto un contenuto che nessuno legge oltre la metà questo dato ce l'avete gratis avete gratis il tracciamento dei clic in uscita con avete gratis intendo dire che non dovete fare nessuno sviluppo ma soltanto spuntare nell'amministrazione di GA4 quindi potrete misurare tutte le volte che dal vostro sito l'utente clicca un link verso un altro sito potete monitorare la ricerca sul sito ed è una cosa fondamentale per lo sviluppo dell'azienda e del sito imparate e cercate di tracciare il prima possibile che cosa cercano le persone sul vostro sito sapere che cosa cercano le persone sul vostro sito vi permette di migliorare il sito aumentare i tassi di conversione pensare agli sviluppi futuri dei contenuti del vostro portale quindi cercate il prima possibile di tracciare la ricerca sul sito per gli e-commerce è fondamentale ma anche se avete un sito un po' grande dove l'utente banalmente non vede tutto a menu in un solo colpo d'occhio mettete la ricerca non sottovalutate mai quanto un utente può aver difficoltà con il dispositivo o può essere pigro e quindi se non trova la ricerca dopo un pochino frustrato esce questo pochino può essere veramente molto mentre invece anche sul sito di un hotel soprattutto da mobile avere la ricerca dove io cerco prezzi che mi portano nella pagina prezzi mi può fare veramente la differenza tra un utente che va sulla pagina dei prezzi o va nel configuratore della stanza e un utente che invece non trovandosi a suo agio se ne va sapere anche soltanto che l'utente cerca i prezzi online anche se io non li ho messi è comunque un'informazione super interessante quindi dotatevi di una ricerca perché la chiave è per migliorare i tasti di conversione e per sapere di che cosa bisogna l'utente dotatevi della ricerca e con una spunta tracciate tramite analytics che cosa cercano le persone e anche quanto migliora il tasto di conversione dopo una ricerca quinta azione che si può tracciare in automatico sono le interazioni con i moduli anche questa cosa super interessante se il vostro sito raccoglie lead oppure se il vostro sito raccoglie direttamente delle richieste di preventivo raccoglie delle richieste di contatto eccetera potrete tracciare in automatico tutte le interazioni che gli utenti fanno con i vostri moduli con i vostri form con i vostri campi da riempire di inviare ulteriore aspetto potete tracciare il coinvolgimento dei video quindi quante volte vi hanno detto vi hanno proposto di inserire un video aziendale all'interno del sito quindi voi caricate il sito su youtube e poi da youtube lo portate sul vostro sito vi siete mai chiesti quante persone vedono il video quante persone lo iniziano quante persone arrivano al 25% quante persone lo finiscono ecco attraverso il non-set measurement di GA4 sarà possibile anche qua senza ulteriori setup sapere quante volte l'utente ha iniziato il video quante volte l'ha finito quante volte si è fermato a metà e ancora potrete fare advertising per esempio soltanto su chi l'ha visto fino in fondo ultimo step interessante soprattutto per chi utilizza il sito anche come repository come libreria per la manualistica potrete tracciare quante volte l'utente avvia il download di un pdf o comunque di un documento sul vostro sito perché tutto questo potere messo nelle mani di chi fa web analytics perché questo sforzo di google nello riscriver tutto cambiare tag fare un salto in avanti molto lungo con il rischio di perdersi persone dietro perché la visione di google è che proprietari di siti web analyst con questo strumento riusciranno a essere più veloci di prima potranno avere più dati di prima e con questo maggior numero di dati potranno fare migliori campagne di advertising campagne di advertising migliori non ci nascondiamo dietro un dito è ovvio che google analytics è sempre stato gratis perché per google è un modo di far crescere internet che chiaramente è nei suoi interessi è un modo di entrare in contatto con i siti internet con i webmaster altra cosa è il suo interesse ma in ultima analisi è anche un modo per vendere pubblicità tramite google ads e questo strumento permette di fare google ads veramente a un altro livello anche se non si hanno super competenze non si hanno sviluppatori in casa in grado di inserire i tracciamenti soprattutto quando si alza la media e poi dopo è sicuramente più interessante una competizione molto più ampia per tutti io ho finito con i sei punti che vi volevo portare per raccontarvi le novità portate da GA4 spero di avervi un po' incuriosito e di avervi dato anche idea di come si può collocare questo passaggio da GA3 a GA4 in un nuovo sviluppo aziendale non vedo l'ora adesso di cominciare a rispondere alle vostre domande però per ricordarci abbiamo visto come governare il cambiamento perché è stato così urgente ma come possiamo raccontarlo all'interno dell'azienda e perché dobbiamo passare il prima possibile quali sono i nuovi meccanismi che ci mette a disposizione Google Ads quali sono le nuove opportunità quindi le cose che prima non si potevano fare e adesso si possono fare quali sono stati i quali sono le sette regole per passare da Universal a GA4 e poi un focus particolare sugli eventi adesso se ci sono delle vostre domande voi in piattaforma avete il modo di fare delle domande e cercherò di rispondere a ciascuna domanda in attesa vi porto uno stimolo ulteriore legato all'esperienza che abbiamo anche lato mondo dell'advertising questo continuo crescere di dati ha creato un mondo dell'advertising ormai separato in due ci sono i siti e gli account gestiti ancora con logiche diciamo vecchie e i siti che c'è e gli account di google ads gestiti con logiche che si concentrano sulla raccolta di maggior quantità di dati possibili cosa voglio dire voglio dire che ormai google ads è diventato ma anche facebook ha le stesse identiche logiche che le ha facebook sono strumenti ormai che hanno un fortissimo grado di automazione il lavoro di noi consulenti e di chi ha un account facebook ads piuttosto che google ads è diventato tipicamente non tanto quello di ottimizzare ma è diventato quello di fare in modo che l'algoritmo abbia i migliori dati possibili faccio un esempio molto concreto non sta più a chi gestisce l'advertising andare a cercare il target migliore su facebook il target migliore su instagram o la parola chiave migliore su google ads c'è ancora quel lavoro ma è piccolo e poco gratificante funziona poco il lavoro vero è dare i dati più organizzati possibili al machine learning di queste piattaforme dargli migliori contenuti quindi le migliori creatività e lasciare che abbiano tempo per funzionare il lavoro diventa molto più strategico quindi capire quali devono essere gli obiettivi capire quali devono essere le strategie e molto meno ottimizzazione tecnica sul canale perché nel piccolo sia google che facebook hanno troppi più dati di noi guardate quanti eventi ci sono google viene investito da eventi e quando ci sono così tanti eventi è sicuramente più semplice per un algoritmo che per un umano trovare correlazioni bevo un secondo e rispondo alle vostre domande allora rispondo alla domanda di Giorgio ti è in piattaforma la legge ma la ripeto molto rapidamente abbiamo diverse segnalazioni da parte di legali dei nostri clienti per la rimozione di GA4 vista la malcomunicazione da parte dei media che ci sono stati la soluzione di google di portare i dati in europa risolverà il problema che si è sollevato allora di solito se avete delle richieste ce le avete per togliere l'universal analytics e non per togliere GA4 quindi di solito le richieste che ci sono adesso sono per togliere GA3 non per togliere GA4 i garanti europei si sono espressi finora solo su GA3 detto questo abbiamo avuto l'occasione di intervistare anche brevemente il garante cercate il video su youtube se volete la risposta è semplice purtroppo è negativa questo approccio di google il fatto che google utilizzi un proxy negli Stati Uniti in europa per poi mandare i dati negli Stati Uniti non è sufficiente ad essere compliant per il GDPR perché qual è il principio ve lo semplifico ma poi chiedete agli avvocati il principio è che se il server in europa è gestito da google Stati Uniti beh banalmente google Stati Uniti può entrare anche nel server europeo quindi se l'azienda che gestisce il proxy in europa non è indipendente da qualsiasi azienda statunitense allora è comunque in violazione del GDPR cosa voglio dire voglio dire che se il vostro proxy è su Aruba o su un qualsiasi server di una società europea che non è controllata dagli Stati Uniti allora il sistema di proxy può essere una strada GDPR compliance e quindi la strada che sembra GDPR compliance è quella di utilizzare Tag Manager Server Side che permette di non chiedere dati negli Stati Uniti banalmente mentre invece avere soltanto il proxy di default che già ha abilitato GA4 può creare un piccolo forse c'è bisogno di ancora più giurisprudenza ma si sono già espressi in maniera abbastanza chiara la Commissione Europea e i vari garanti siccome quel proxy è di Google d'Irlanda ma Google d'Irlanda è indissolubilmente controllata da Google Stati Uniti semplifico allora comunque far passare dall'ILIP non è compliant spero di aver risposto anche se non so se è la risposta che volevi ancora Alberto sullo stesso punto ci dice che i proxy di Google proposti sono in Europa corretto ma c'è il problema che ho appena detto quindi sono geograficamente in Europa ma se sei geograficamente in Europa ma sotto il controllo di un'azienda che è controllata dagli Stati Uniti e faccio l'esempio degli Stati Uniti perché è lì che c'è giurisprudenza adesso ma sarebbe la stessa cosa fosse in Cina o in Brasile o ovunque fuori dall'Europa allora stai violando il GDPR perché quell'IP non è più sotto il controllo della giurisdizione europea e possono succedere cose quell'IP può essere banalmente acceduto dai servizi di sicurezza americani in violazione del GDPR senza le tutele che tu hai promesso al cliente che gli davi quali sono le alternative l'alternativa che per il momento se sembrerebbe essere a prova di GDPR è appunto quella di avere un server di proprietà o un server noleggiato su un qualsiasi provider e qui è gioco facile parlare di Aruba ma davvero non sono gli unici che fanno server anche se sono i preferiti di questo episodio potete avere un server vostro che sia in Europa nel quale installate quello che si chiama Tag Manager Server Side e a quel punto l'utente quando scarica il PIC quando scarica Analytics sul vostro sito non lo manda negli Stati Uniti ma lo manda attraverso questo server che ha Tag Manager Server Side e dal server va negli Stati Uniti quindi negli Stati Uniti arriva soltanto l'IP del server che per definizione è libero da qualsiasi vincolo di GDPR perché è un'informazione che non ha niente di personale è un servizio a pagamento adesso chiaramente dipende da casistica da che cosa già state pagando eccetera ma è chiaro che è un server che deve avere questo componente che si chiama Tag Manager Server Side quindi può essere montato su un server che già avete se avete tanti server può essere un server un servizio staccato questo non lo so sì diciamo che è un servizio che comunque è a pagamento non è come Analytics che è gratuito ma è un servizio sul quale l'hosting dovete metterlo voi proprietari di sito quindi direi che è a pagamento poi se avete già un magari un noleggio server piuttosto potente dove potete creare delle stanze magari non comporta un costo aggiuntivo ma mi rendo conto che sia una casistica super particolare ancora domande Marta GA4 e compliance rischio delle sanzioni se continuo a utilizzarlo dipende da come lo usi se lo usi contact manager server side dovresti essere esente da sanzioni ma in generale su GA4 non si è ancora espresso nessuno quindi la cosa che stanno dicendo tutti i garanti d'Europa è che loro cercano di essere i più lenti possibili i più compla i più in ascolto della community possibile vanno avanti perché devono andare avanti ma non c'è un intento fortemente punitivo quindi il rischio multa al momento non c'è anche i casi che ci sono stati in Italia finora in Europa finora non hanno portato a una multa hanno portato a un togliete GA3 questa è l'unica cosa che è successa quindi a un certo punto si è multabili sì se è multabili in maniera molto grave probabilmente no se si sarà multabili sarà multabili dopo una certa serie di avvertimenti ancora e per un importo che non può essere il 4% del fatturato e quindi è un percorso in più lo stesso garante italiano in ripetute interviste ha detto aspettiamoci a breve che il presidente degli Stati Uniti con una nota rigarantisca maggiormente gli utenti europei e si possa riconsiderare Analytics 3 oltre che Analytics 4 nel suo settaggio di default compliant con il GDPR ok quindi al momento è compliant il 3 no il 4 neanche forse è compliant molto probabilmente è compliant il 4 in alcuni setup con Google Server Side come non è compliant Analytics non sono compliant la maggior parte dei servizi che utilizziamo cioè tutto quello che è o stato negli Stati Uniti non è più compliant pensate a quanti di voi utilizzano Google Font o utilizzano una content delivery network americana come Cloudflare per esempio o scaricano i javascript da un server che è fuori dall'Europa cioè in tutti questi casi voi già non siete compliant poi c'è il caso GA3 che giustamente è nell'occhio del ciclone quindi rischi rischi così come per quanto riguarda la sicurezza la questione è parlare con il DPO parlare con i responsabili e capire quant'è il rischio al quale ci si vuole esporre mi chiede esplicitamente Paolo ho detto che è possibile far girare in parallelo GA3 e GA4 ma GA3 non è stato indicato illecito del garante della privacy allora la prima frase era tecnologica quindi tecnologicamente 3 e 4 possono girare in parallelo assolutamente sì ed è la cosa che è consigliato fare perché così si vede se i numeri tornano poi c'è la seconda parte della frase sulla quale ovviamente concordo GA3 non è stato dichiarato illecito del garante della privacy sì diversi garanti della privacy in diverse nazioni europee lo hanno dichiarato illegittimo è diciamo così ormai c'è giurisprudenza che ci fa dire è illegittimo ovviamente c'è tutto un aspetto di profilo di rischio che dovete vedere con il vostro DPO con il vostro amministratore delegato per capire per esempio ha senso che io blocchi le mie campagne per essere compliant e qua dipende molto da quanto per voi sono strategiche le campagne perché tanti possono dire aspettiamo che arrivi la lettera del garante certo sono scelte che rimandano a ciascuno di voi e che nessuno vi vuole consigliare a fare è vero quello che chiedete cioè è vero quello che dite GA3 in questo momento addetta di tutti i garanti europei che si sono espressi non è è illecito questo non vuol dire che se per un periodo va insieme a GA4 tecnologicamente funzioni chiede di nuovo Guido il codice di Google Analytics UA ossia Universal Analytics va tolto e lasciato solo il codice di Analytics 4 no il codice di Universal Analytics voi potete tenerlo tra virgolette per sempre ovviamente non sto parlando per temi di compliance per temi di compliance sicuramente se lo togliete è meglio ma nell'ipotesi di non aver quel vincolo voi Analytics 3 lo potete tenere sul sito per sempre a un certo punto smetterà di essere utile cioè dal 1 luglio 2023 non funzionerà questo quindi sarà un codice inutile ma non sarà dannoso quindi lato compliant dovete toglierlo sì lato tecnologico potete tenerlo per sempre l'unica cosa è che poi Analytics 4 continuerà a funzionare e Universal invece no ancora una domanda se ne avete altre fatele così io mi regolo con i tempi perché tra 6 minuti dobbiamo chiudere quindi fate tutte le domande che avete in mente così capisco quanto andare in profondità con le varie risposte ci chiede Cristoforo come si fa a vedere da fuori che un sito è coperto da Analytics 3 facilissimo voi quando aprite il browser vedete ispezione a codice e vedete se c'è il codice di Analytics 3 oppure ancora più facile un pochino più da nerd ma non così tanto aprite in qualsiasi browser la console per sviluppatori aprite il sito e vedete se c'è una chiamata da Analytics 3 la vedete in maniera chiara se c'è la vedete Marta sempre tema compliance siamo un'agenzia ed abbiamo clienti piccoli nei cui siti è presente GA 3 ha senso fare loro comunicazione sulla problematica il consiglio più sicuro sembrerebbe non fare più utilizzare nessun GA ne vale la pena grazie ne vale la pena parlarne con i clienti probabilmente sì ma è un consiglio che vi do da consulente i clienti rischiano ni magari però gli arriva qualche notifica e quindi è meglio se voi li avete preparati quindi scrivetegli mandateglielo è chiaro che la cosa più sicura è non avere nessun servizio di Analytics però perdono molto lato digitalizzazione nei vostri clienti è vero che se sono proprio piccoli utilizzare e non fanno Google Ads utilizzare Universal Analytics utilizzare GA 4 o utilizzare una soluzione europea quindi faccio un esempio Matomo Piwik ce ne sono altri non fa grossa differenza per il cliente piccolo che deve contare le visite sicuramente ne vale la pena perché si fa percepire che sia sul pezzo l'idea è quella di far vedere lo scenario se me ne frego succede questo se sono super compliant succede quest'altro cosa posso fare nel mezzo così che il vostro cliente possa prendere una decisione la speranza di tutti includendo perlomeno il garante italiano che si è espresso in questi termini in interviste pubbliche è che il presidente degli Stati Uniti a breve riesca a scrivere una riga e rimandare tutta la giurisprudenza a fare nuove sentenze possa costringere tutti a riporci il problema della compliance gestendo quelle che sono le casistiche le quali adesso ci stiamo che siamo abituati a valutare per parlare di compliance cioè se banalmente faccio un'ipotesi il presidente degli Stati Uniti dovesse dire che ci sono maggiori garanzie più in linea con le protezioni che siamo abituati ad avere in Europa nel caso di dati europei che vanno negli Stati Uniti già questa cosa di per sé renderebbe di nuovo il passaggio negli Stati Uniti compliance è un mercato enorme noi davvero stiamo vedendo Analytics ma è una piccola punta di un iceberg per riprendere la domanda fatta da Cristoforo hanno preso Analytics 3 proprio perché è più facile da vedere che lo stiamo usando ma non è esente nessun servizio che ha i dati e che porta i dati negli Stati Uniti dalla mail ai CRM a tantissime interfacce aziendali grazie mille per le domande che sono che sono terminate allora io chiudo uso soltanto quest'ultimo minuto e mezzo per ringraziarvi e per invitarvi a continuare il percorso con Aruba Business i consulenti di Search On Media Group la società che supporta la realizzazione di questi eventi da un punto di vista tecnico e formativo vi porto di nuovo il calendario il 26 ottobre inbound marketing e CRM il 30 novembre strumenti gratuiti messi a disposizione da Google davvero interessante per capire quali opzioni ci sono per i piccoli per mettere mano nel digitale senza investire il 18 gennaio come fare pubbliche relazioni digitali e non e il 15 febbraio chiudiamo questa Digital School parlando di dati di prima parte quindi come mettere a sistema i dati che ci sono internamente all'azienda vi ringrazio ringrazio tutti voi che siete stati così numerosi e partecipi nelle domande e vi rimando al prossimo appuntamento grazie 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 grazie